Benvenuti ad un nuovo video tutorial dedicato ad Adobe Premiere 2019. Sono Fabio Ambrosi e in questa playlist esploreremo alcune delle novità introdotte in Adobe Premiere nella versione 2019. Vi ricordo che se non avete mai lavorato in vita vostra con un software di montaggio video potete andare a buttare un occhio alla playlist dedicata al corso di montaggio video con Adobe Premiere. La trovate sempre qui sul mio canale YouTube completamente gratuita e di settimana in settimana cercheremo di imparare come funziona nel dettaglio questo software per il montaggio video. Se invece siete già dei montatori esperti e volete semplicemente buttare un occhio alle novità introdotte nella release 2019 di Adobe Premiere non mi resta altro da fare che augurarvi buona visione. La prima novità che andiamo ad esplorare riguarda la color correction e in particolar modo la color correction secondaria. Se andiamo infatti a vedere la sezione della Lumetri Color dedicata alle curve oltre alla classica curva RGB che ci permette di modificare lo spettro RGB della nostra immagine è stato introdotto un nuovo set di curve che ci permetterà di scegliere con maggiore precisione cosa modificare nella nostra immagine. Vediamo ogni curva nel dettaglio. La prima curva che andiamo ad esplorare riguarda la tonalità contro la saturazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella release 2019 di Adobe Premiere è possibile scegliere un range di colori, un range di tonalità da prendere come riferimento per modificare la saturazione. Facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che l'azzurro e il blu di questo laghetto è troppo acceso, è troppo saturo. Immaginiamo che vogliamo semplicemente desaturare il range di tonalità che riguarda appunto l'azzurro. Come fare? Come potete vedere c'è un contagocce che noi possiamo utilizzare per andare a selezionare il range di colori che vogliamo prendere come riferimento. Come potete vedere abbiamo preso come riferimento tutti i colori che sono sull'azzurrino. Cliccando su uno di queste manopole, di questi punti di riferimento come potete vedere si accende un'ulteriore curva verticale. È la curva della saturazione. Quindi proprio come dice il nome qui stiamo scegliendo un range della tonalità e in questo range stiamo modificando la saturazione. Come potete vedere, questo è semplicemente un esempio senza alcun fine particolare, ecco l'azzurro di questo lago è completamente sparito così come l'azzurro di tutta la nostra immagine ed è stato sostanzialmente desaturato. Questa è la prima curva tonalità versus saturazione. La seconda curva che andiamo ad esplorare invece è la tonalità versus tonalità. Immaginate per esempio che questa foto che ha un'erba diciamo un po' giallina, ecco forse era quasi autunno quando ho scattato questa immagine. Immaginiamo che vogliamo dare un po' più di verde e rendere un pochettino più estiva questa fotografia. Come fare? Proviamo magari a cambiare la tonalità di questo giallino dell'erba e virarlo magari verso il verde. Come fare? Come abbiamo già fatto con la prima curva, scegliamo il contagocce, scegliamo un colore che vogliamo modificare, clicchiamo sopra un colore che vogliamo modificare e Premiere automaticamente tenterà di selezionare il range di tonalità che riguarda appunto l'area d'immagine su cui abbiamo cliccato. Se andiamo a cliccare con il tasto sinistro del mouse sopra uno di questi punti di selezione della curva, vedrete che abbiamo una nuova curva verticale. Questa volta non andiamo a modificare la saturazione, andiamo a modificare la tonalità. Quindi tonalità contro tonalità non significa altro che andiamo a selezionare una tonalità nel nostro spettro di colori e una volta cliccato sopra un punto della nostra curva andiamo a modificare la tonalità dei colori selezionati. Ecco, nello specifico io abbasso leggermente il cursore del mouse. Come potete vedere sto virando verso il verde la componente dell'immagine che ha i colori presenti in questo range della tonalità. Andiamo ancora avanti e troviamo la curva tonalità versus luma. Per questo esempio andiamo avanti nella nostra timeline, andiamo all'immagine successiva. Eccoci qua, nella curva tonalità versus luma noi andremo a modificare il luma partendo da un range di tonalità ben preciso. Cosa vuol dire? Ipotizziamo che vogliamo togliere un po' di luma al verde di questa foresta credo che sia. Clicchiamo sulla nostro contagocce, clicchiamo sul verde di questa di questi alberi e come vedete Premier seleziona un'area della nostra linea della tonalità ben precisa che va dal giallo sostanzialmente al verde. Cliccando su uno di questi punti di riferimento vedete che compare un'altra linea verticale che questa volta non ci fa modificare la saturazione o la tonalità come nelle curve precedenti ma semplicemente ci fa modificare la componente luma della nostra immagine. Quindi modificando questa curva e portandola verso il basso vedete che questi alberi sono diventati più scuri perché abbiamo selezionato un range di colori di cui abbiamo sostanzialmente abbassato il luma. Le ultime due curve sostanzialmente sono identiche a quelle già viste in precedenza e ci permettono di modificare la saturazione della nostra immagine partendo da un luma ben preciso o di modificare la saturazione della nostra immagine partendo da una saturazione già data. Piccola cosa che non ho detto se vogliamo rimuovere i punti dalla nostra dalla nostra dalla nostra curva basta cliccare due volte con il mouse tasto sinistro del mouse sulla nostra curva orizzontale come vedete i punti vengono resettati. Queste erano le novità principali per quanto riguarda la color correction in Adobe Premiere 2019 nel prossimo video esploreremo le novità che riguardano invece la manipolazione dell'audio. Iscrivetevi al mio canale youtube per restare sempre aggiornati e venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it per leggere tutti gli articoli riguardanti questi video tutorial. Grazie e alla prossima!